Allora, riprendiamo da Renzo Martens, anzi riprendiamo dell'immagine della Djibouti Dakar come archetipo di una roba ibrida e interdisciplinare comunque, coinvolgeva surrealisti, etnografi e aveva aspetti di grossa contraddizione perché da una parte c'era questa viscerale condivisione degli aspetti religiosi, per esempio l'Iria era stato iniziato addirittura in dei riti in Etiopia, dall'altra parte c'era il bottino, il sacco, diciamo, dei feticci, delle cose da poi esporre nel museo, quindi c'era questa ambivalenza. E ora però, come dicevi te prima, appunto è interessante parlare di Renzo Martens, anche se appunto, più che come antropologo, sembra un esploratore, gioca un po' con questa iconografia dell'occidentale nell'alterità, in qualche modo. Quest'immagine infatti l'ho trovata su internet, no? C'è lui con questa maglietta bianca immacolata, con questo cappello, che anche se è un cappello di vimini, su di lui sembra quasi un cappello, un elmo coloniale, no? E' sempre impeccabile, no? In mezzo alla foresta e tutto. Allora, cosa fa Renzo Martens? Allora, forse facciamo prima un piccolo cappello teorico, eh? Allora, c'è un libro fondamentale, che immagino tutti hanno letto, che è Il ritorno del reale, di Al Foster. Però è un libro difficilissimo, in realtà. E che io ho dovuto leggere e rileggere, c'è un sacco di... Perché lui non dice mai, in realtà, non asserisce mai qualcosa attribuendosela. Spesso dice le cose molto significative, ma non è chiaro se è quello che lui realmente pensa, o quello che qualcun altro dice, o quello che si potrebbe pensare. Quindi poi è difficile vedere qual è la sua visione delle cose. Però, insomma, nel capitolo L'artista come etnografo, giusto? Lui sottopone a una severa critica, no? Tutto quello che sono le forme di arte in cui qualcuno rappresenta un'alterità. E anche lui fa un interessante parallelo tra alterità culturale e, tra virgolette, alterità sociale. Cioè, sia l'artista che si fa portatore delle istanze di un gruppo sociale o di una classe sociale, sia l'artista che si fa portatore delle istanze di un gruppo etnico o di una comunità, entrambi sono nella stessa scatola. Quindi veramente mette insieme sia l'artista attivista che l'artista antropologo, in qualche modo, no? Questo artista, secondo lui, cade in delle grosse, delle aporie e delle contraddizioni. Da cui, io penso, comunque sia... Che è bene conoscere, insomma, secondo me. È bene per chi lavora in questo tipo di confini. E' importantissimo conoscere queste criticità. E quindi, appunto, il rischio che lui individua, un rischio maggiore, è quello del patronato ideologico. Cioè, in qualche modo cosa succede? Che l'artista sviluppa un rapporto, appunto, di patronato con la comunità con cui sta lavorando. Cioè, si mette su un piedistallo e dice, io rappresento questa comunità. No? Si può... Ha un'istituzione, molto spesso, il più delle volte, che lo mette su questo piedistallo. Quindi che supporta questo rapporto quasi gerarchico fra artista e comunità. Che in qualche modo poi viene camuffato da partecipazione. Sì, sì, sì. E sì, lui parla proprio di un dispositivo... Sembra che ci sia proprio un dispositivo antropologizzante, sia per l'artista che va dalla Danimarca, nella comunità, nel Brasile, e difende i diritti contro chi disbosca la foresta. Ipotesi, eh, non sto... Ma anche l'antropologizzazione degli artisti. Cioè, da parte del mondo dell'arte, cioè che tende a... Se non c'è... Se l'artista... O c'hai l'artista antropologo, bianca, caucasico, artista caucasico e va e diventa antropologo. Oppure si sceglie all'interno della comunità X un artista, da virgolette, esotico, che rappresenta le istanze di quella comunità. Questa a sua volta è un'operazione che Foster critica, no? Quindi tentare di selezionare artisti etnici, tra virgolette, su base geografica, quindi, no? Secondo lui non è assolutamente giusto, è vero, non è che siccome uno è indiano, allora ha maggior diritto o ha maggiore... Sì, di rappresentare una determinata comunità che magari invece è completamente altra rispetto a lui in termini sociali. Quindi non è che questo elemento dell'etnicizzazione della figura dell'artista riesca a risolvere la poria. Cioè, si ripropone comunque questo elemento del patronato ideologico. Quindi, Renzo Martens, in qualche modo, questa cosa qui del... di questo desiderio di potere, no? Che si crea, la porta alle sue estreme conseguenze. Immolandosi lui stesso, diciamo, facendo una specie di harakiri, no? Pubblicando i diari, si potrebbe dire, no? Infatti è bello, secondo me, il Enjoy Poverty. Ora magari lo inquadro, no? Questo lavoro è un lavoro che io vidi la prima volta quando c'era manifesta in Trentino. Mi pare la sede era la tabaccheria, la tabacchiera di Rovereto, non ricordo. e mi colpì molto, perché io tra l'altro venivo da un workshop in Serbia, dove, molto interessante fu come esperienza, era una specie di residenza workshop, si chiamava The Return of the Gastarbeiter, il ritorno del gastarbeiter, cioè del migrante, che tornava dalla Germania, tornava in Serbia, con i soldi, e faceva vedere i soldi. E nello stesso tempo c'erano i Rom, profughi da Cosso, no? E molti gastarbeiter erano anche loro Rom. Quindi eravamo stati completamente immersi per un'estate in questa specie di incubo di una società che aveva perso completamente il baricento, l'equilibrio, dove c'era proprio un elemento disgregativo fortissimo, anche in seguito alla guerra e tutto, e dove noi eravamo stati invitati a fare degli interventi di arte impegnata, di arte curativa, non so come dire. Era la prima volta, tra l'altro, che io mi cimentavo così esplicitamente in un lavoro del genere. Era in parte richiesto dalla... era un po' iscritto nel... nel concept di questo workshop presidenza. Però era qualcosa che comunque veniva abbastanza naturalmente. E io mi ero ritrovato in una serie di contraddizioni, diciamo, lavorando con queste comunità Rom. Poi c'ho anche un... magari si avanza tempo, poi si può anche vedere... feci un documentario al tempo di questa impossibilità di agire, no? E di questo fallimento che io continuamente mi ritrovavo a constatare. Proprio perché si erano creati degli equivoci di posizione. Cioè, loro mi vedevano... Io ero sempre con loro. Allora a un certo punto mi vedevano come... uno che davvero poteva far qualcosa per aiutarli. E riponevano in me certe aspettative. E io stesso a un certo punto ero entrato in una specie di strana sindrome di... cui davvero volevo sviluppare un progetto che potesse avere un impatto sul lungo termine. Però ovviamente la residenza durava solamente... era breve. Quindi questo è un elemento cruciale che poi... diciamo, sì... cioè il tempo del fieldwork è importante su queste cose qui. Ma a quest'ora, chiusa parentesi, perché se no ci si allontana troppo. Però magari si fanno in una terza parte oggi, dopo, questo aspetto qua. Che era il periodo di cui si parlò l'estate, quest'estate, no? Anche del senso di responsabilità verso la comunità e tutta la sostenibilità appunto di un certo tipo di intervento, no? Nella sfera pubblica. Comunque, tornando a Renzo Martens, lui... Il dispositivo della residenza artistica è la pratica più antropologica e il lavoro sul campo con tutte le criticità in comune e quelle divergenti. Quindi penso sia un argomento abbastanza interessante da riprendere. Sì, no, questo è fondamentale. Forse, ho fatto tutta questa indagine, questo flusso di coscienza tra Dada e surrealismo e etnografia surrealista, ma il field è l'elemento che accomuna quella sezione di arte che si può sovrapporre all'antropologia. Cioè, artisti che lavorano in residenza. La residenza, alla fine, è un mini field. È un mini field work, no? L'artista viene preso. Cioè, quest'anzi va, va sottolineato questo aspetto. È l'elemento centanzi, grazie, per avermelo ricordato. Stiamo parlando di artisti che producono in residenza, no? Quindi che se ne vanno dall'altra parte del mondo, non necessariamente dall'altra parte del mondo, comunque che per un periodo risiedono in un luogo e quindi inevitabilmente diventano antropologi. Senza volerlo e magari senza avere neanche la consapevolezza di tutte le impasse in cui si possono ritrovare, tutte le contraddizioni. perché non c'è una... Ci vorrebbe una specie di breviario per gli artisti in residenza. Cosa non fare? Cioè, evitare di voler salvare la comunità, evitare di voler... No? Perché non puoi salvare quella comunità, specialmente se la residenza dura un mese. No? Forse dovresti trasferirti per sempre lì, allora forse davvero... Però dovresti resti un attivista. Quindi c'è anche... Secondo me è interessante anche stare... No, sono i limiti quelli, no? Se circoscriviamo il problema poi è più facile conoscere la... I limiti sono quelli. Da una parte l'irresponsabilità di un artista che va lì e estetizza magari una questione sociale e si appropria di storie e le riutilizza. Dall'altra parte il rischio è dedicare la propria interesistenza a quello specifico caso e quindi diventare un'altra cosa, forse. Non lo so, mi sembrano i due. Ora, quindi, Renzo Martens cosa fa? Fa, mette in campo, drammatizza incredibilmente tutte queste impasse che si possono determinare quando un artista si si reca in un determinato luogo e con intenzioni diciamo prometeiche e crea una determina un è un pessimista lui e quindi è un lavoro molto abbastanza anichilista questo. Però è utile per definire un limite poi secondo me può essere tranquillamente superato non so non so si cosa fa Renzo Martens va in Congo non a caso il Congo del cuore di tenebra no? E in Congo diciamo sul livello manifesto la sua intenzione è quella di fare un'indagine sembra quasi un'inchiesta no? Un po' giornalistica lui vai diciamo in qualche modo fa un'indagine sulle ragioni della disuguaglianza sociale nel Congo e in rapporto a una specie di dinamica neocoloniale dove ad esempio c'è un proprietario di una piantagione che sfrutta i suoi operai e loro fa tutto un lavoro di inchiesta su quanti bambini malnutriti ci sono tra queste famiglie di operai che lavorano per questo qui e poi fa anche tutto un lavoro in parallelo su come la povertà questa povertà sia in realtà appunto una ricchezza per tutte le associazioni internazionali che con spirito pseudo caritatevole si in qualche modo attraversano l'Africa ma in realtà c'è tutta un'egemonia occidentale in questo mondo non solo per quanto riguarda gli aiuti ma anche per quanto riguarda il racconto dell'Africa il racconto dell'Africa delle guerre in Africa è sempre nelle mani di bianchi di europei americani non è mai autogestito in qualche modo quindi tutte le problematiche della povertà sono tutte quante monopolizzate come se la povertà fosse una risorsa patrimonio africano è molto brillante come idea questa e infatti in Joy Poverty è quello è un po' l'idea di spiegare alle persone del posto che devono loro stessi prendere in mano la loro povertà e gestirla però per esempio uno degli aspetti questo momento capitale del film ci sono queste questi fotografi che come degli avvoltoi si avventano su un cadavere in decomposizione e lo fotografano tra l'altro sono italiani si sente a un certo punto squilla il cellulare fa ciao si torno dopo butta la pasta sembra un po' e poi ricominciano a fotografare il cadavere una cosa disturbante proprio e poi lui inizia a parlare con questi gli dice ma voi ma voi queste immagini insomma a che appartengono queste immagini dice in realtà queste immagini le creano per voi le persone del posto creano il setting creano loro questa scena di cui voi vi appropiate e loro dicono no l'autorialità è mia io prendo 50 euro a scatto io determino quel segmento di realtà che voglio rappresentare quindi l'immagine è mia anche del povera o del bambino malnutrito o del morto o della donna violentata no diventano proprietà del fotografo la povertà la disperazione qui appunto ci sono questi tizi che fanno foto a dei guerriglieri mascherati piano interviste e quindi cosa decide di fare Renzo Martens decide di fare un workshop questo è un altro momento fondamentale del film lui prende dei dei giovani fotografi di un villaggio che fanno fotografie di matrimoni feste però a lui non interessa l'aspetto antropologico per un antropologo si avventerebbe su questo archivio di immagini di feste e matrimonio lui non gli importa nulla e anzi gli dice c'è l'opzione di fotografare feste e fate un dollaro al mese gli insegna l'economia razionale cosa abbastanza colonialista anche andare a spiegare l'economia è un'immagine non so quanto consapevolmente si metta nei panni dell'implementatore coloniale però sembra davvero un po' una specie di incubo del modernismo europeo in Africa che costruisci le strade e gli spieghi come fare come farli calcolo in qualche modo o gli porti internet e gli spieghi si gli spieghi l'economia però si come implementare la vita e quindi gli fa tutto lo schemino un dollaro al mese per fotografare i matrimoni e poi invece dice l'opzione B è donne violentate cadaveri e poi aggiunge anche e aggiungiamo qui bambini malnutriti cioè è una cosa veramente cinica che fa in quel momento però lui dice è inutile perché vi fate rubare questa risorsa perché le foto le fanno questi qui e pigliano 50 euro al mese perché non le fate voi quindi è una roba estremamente ambiga da una parte mantiene una postura estremamente di quello che insegna quindi incarna questo ruolo che no del patronaggio ideologico al massimo si mette sullo spedistallo di quello che promete proprio e dall'altra parte effettivamente c'è una logica perversa in questa cosa e questi ascoltano e qui dice ecco vedi se fate così si arriva a mille dollari al mese rispetto a un dollaro al mese e quindi questa piccola comunità di fotografi locali che gode della fiducia della popolazione locale e vive anche della fiducia che la popolazione locale ripone in loro in qualche modo si trasformano in dei rapaci predatori di immagini e c'è tutta una parte abbastanza tremenda dove loro vanno in questi orfanatrofi dove sono questi bambini morenti loro li fotografano e lui filma tutto questa cosa qua quindi gli ha in qualche modo drogati con questa idea di questo accesso alla povertà e a questo benessere economico però poi cosa succede che quando provano a vendere queste immagini cioè in qualche modo queste immagini sono fuori mercato perché probabilmente anche per motivi tecnici cioè se si guardano le macchine fotografiche loro sono delle vecchie analogiche dall'altra parte ci sono questi fotografi italiani con delle specie di reflex dell'ultima generazione e quindi e poi comunque un mercato in ogni caso gestito da da gente che viene da fuori cioè un controllo della risorsa dall'esterno e anzi gli viene obiettato mi sembra dai medici senza frontiere che gli dicono no se tu fai questo trasformi tutti loro in rapaci cioè quindi crei una situazione perversa autodistruttiva nella comunità in ogni caso lui a un certo punto li congezi si congeda da loro dicendo l'impressione che ci sono molti ostacoli questa immagine è abbastanza pesante questi ragazzi se ne vanno via veramente distrutti perché li ha comunque illusi di una possibilità di riscatto che poi non avviene allora in qualche modo si concentra su questa formalizzazione di questo messaggio e comunque vuole continuare a portare in giro e costruisce questa scritta al neo con scritto enjoy poverty please con scritto please però questa immagine e qui c'è un elemento proprio fondamentale secondo me perché che avviene in tutta la che c'è sempre anche nella produzione etnografica ogni scrittura antropologica che avviene a posteriore rispetto ad un'esperienza di fieldwork ogni etnografia ogni scrittura si porta dentro una contraddizione cioè che te in qualche modo tradisci la relazione che hai creato sul fieldwork perché nel momento in cui te stai con una comunità ci passi del tempo impari la lingua o meno ma comunque condividi con loro la quotidianità poi però cosa succede se ne torni nella tua università a Siena a Oxford e cosa fai riprendi il materiale lo elabori lo editi lo teorizzi crei dei rimandi che hanno senso nel mondo dell'università nel mondo dell'antropologia in quel microcosmo lì o nell'arte appunto esatto cioè quindi quell'elemento lì nel tradimento è in agguato in modo molto simile sia per gli artisti antropologi che per gli antropologi e quindi quello che fa Renzo è svela anche lì il dispositivo no? cioè in modo impietoso e la parte proprio più ora sono tutte scene momenti capitali non a caso questo lavoro qui ha avuto un enorme successo perché tocca veramente dei punti tutte le aporie e quindi aspetta qui c'è un video ve lo faccio vedere qui si va sul video bene funziona dovrebbe essere un video questo sì se ah vedi mi fa no no è che mi da un punto interrogativo aspetta se lo cerco perché ce l'ho no ce l'ho l'ho scaricato non me l'ha caricato nel powerpoint vuoi dire qualcosa intanto se no ve lo posso anche descrivere c'è un po' di confusione no no vediamolo no la cosa interessante è proprio quella di cui parlavamo prima secondo me cioè che alla fine di questo fallimento che è un po' un fallimento parzialmente un fallimento per l'artista per Enzo Martens invece il totale fallimento in qualche modo la totale disillusione per i locali poi si trasforma in qualcos'altro per l'artista si trasforma in quella formalizzazione che sancisce la circolazione del lavoro stesso in maniera veramente incredibile spropositata e quindi potrebbe rimanere in qualche modo soltanto la traccia di questa operazione un po' un po' un po' crudele da parte da parte di Renzo Martens anche se di fondo io la trovo necessaria in qualche modo perché è come se lui avesse svelato il trucco è come se avesse svelato l'intero l'intero processo e le sue le sue criticità è estremamente utile tenerla presente però ancora una volta è estremamente utile tenerla presente all'interno del sistema quindi questo non cambia effettivamente di fatto la la posizione dei dei locali che loro sono stati comunque hanno vissuto quel tipo di disillusione resta pur sempre quella c'è un impatto che un artista può scegliere di considerare o di non di non considerare però l'impatto esiste lo vogliamo vedere vai questo è proprio l'ho trovato su youtube perché non si trovano facilmente cioè chiaramente controlla bene il suo prodotto però questo pezzo era su youtube se lo riuscito a scaricarlo lui qui sta montando in un villaggio congolese indefinito sta montando questa scritta al neon è interessante vedere il dibattito che ha con uno il dibattito 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 Cosa? Poverty? Ah non, non... Poverty, è poverty in anglais Forse per il pubblico deve essere anglais Cosa? Ecco Questa è... C'è anche una versione più lunga ma penso che si capisce abbastanza bene il livello di esasperazione a cui porta la cosa però la cosa interessante uno dice io conosco un sacco di gente che io mi ricordo quando lo vedi a manifesta ero con una persona che uscì dalla stanza a Berlino mi ricordo che la gente entrava e usciva alla Biennale di Berlino un anno dopo cioè quindi è un lavoro che chiaramente anche io ho dei problemi personali a fruirlo questo tipo di lavoro qui sinceramente anche perché non non capisco lui come si pone umanamente rispetto a questa cosa però al di là degli elementi del giudizio che posso avere su... che non ho in realtà perché non lo conosco lui personalmente cioè l'ho visto due volte ehm però ecco che comunque è come se Malinowski avesse pubblicato quelle robe lì in quei momenti di esasperazione dove insulta le persone del posto dove le minacce è come se lui l'avesse pubblicato in qualche modo invece non l'ha fatto quel pudore lui non ce l'ha lui ha deciso di mettere in ballo c'è un altro suo lavoro prima che non so se conoscete quello dove è in Cecenia nei campi profughi dove anche quello è estremo no? eh... non mi ricordo benissimo però lui va in questi campi profughi e... ci sono tutte queste donne c'è scene che profughi che gli dicono che lui è bello e... e lui si filma mentre loro gli dicono che è bello poi fai innamorare una profuga ma poi alla fine gli dice no io ho la fidanzata so... Amsterdam e quindi ehm lì è proprio anche col genere no? è più un elemento entra proprio in gioco l'elemento di dislivello dovuto allo status sociale alla condizione nazionale cioè lui è olandese e quegli altri sono sono eh... no c'è sempre il lapsus che sia belga che infatti il Congo belga Conrad e tutta la la e... stavo dicendo eh... ah sì che entra anche in gioco forte il dislivello di genere perché lui è un maschio bianco dell'Europa occidentale di fronte a queste donne che sono povere e hanno perso tutto ehm... forte com'è e qui qui ho voluto mettere insieme le due immagini rispetto al video che abbiamo appena visto no? qui da una parte c'è la scritta al neon nel villaggio africano dove lui però ha ci ha messo in guardia rispetto a alla... ha i rischi in questa cosa perché questo problema della traduzione è fondamentale cioè lui con quel giochino del poverté poverty ha in qualche modo racconta un dilemma che c'è in tutta la letteratura in tutta la storia dell'antropologia in tanti dei lavori dell'arte dell'arte impegnata dell'arte site specifico diciamo in senso antropologico o comunitario non spaziale e... e quindi insomma fa proprio un lavoro di disvelamento insomma importante poi però alla fine mi viene in mente questo enjoy poverty finisce no no è conseguenziale è completamente coerente lui ci ha messo in guardia rispetto a questa migrazione del significato quindi in questa immagine qui c'è la stessa scritta in due contesti diversi no? questo l'ho abbinata io insieme però in qualche modo lui la 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 non gli poi non... è dichiarata la questa cioè portare ecco quindi portare alla luce la questa aporia è qualcosa che che non era stato fatto nell'ambito dell'arte nell'ambito dell'antropologia si appunto il doppio registro dei diari del 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 e della monografia è già già da 40 anni è oggetto di riflessione quindi questo lavoro qui dovrebbe essere al centro di tutte le varie eh riflessioni degli antropologi che stanno studiando l'intersezione tra arte e antropologia dovrebbe essere veramente sotto sotto l'occhio di di loro perché c'è tanto letteratura in questo momento che si sta creando in antropologia tanto interesse verso la interdisciplinarietà anche da parte dell'arte e ci sono c'è una sono vari autori che stanno eh lavorando su su questo argomento ora magari più tardi vi darò la eh la bibliografia però c'ho anche altre eh voglio aggiungere qualcosa Anna vabbè forse Arne Schneider che insegna a Oslo è uno degli autori diciamo che ha eh accolto questa invito di 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 James Clifford a riaprire la la frontiera no? e quindi dal dal versante antropologico sta lavorando tanto su questa qui c'è Arne Schneider che è appunto Between Art and Anthropology Contemporary Art and Anthropology ci sono varie ha scritto varie cose ora ho pubblicato un libro adesso tra l'altro proprio due settimane fa e per loro poi per gli antropologi eh e anche non solo loro studiano le sovrapposizioni tra l'arte e l'antropologia ma studiano anche non solo le studiano dal punto di vista dell'arte cioè come fenomeno in sé ma studiano anche come l'antropologia si sta eh avvicinando attraverso l'antropologia visuale per esempio e lì davvero il confine diventa veramente sottile impalpabile forse non c'è più neanche un confine cioè tra un lavoro eh di un artista che parte dall'approccio documentaristico e il lavoro di un antropologo che dal documentario va verso un documentario più soggettivo cioè lì veramente si ibridano eh sarebbe interessante mischiarli in una mostra e vedere come la gente non riesce più a distinguere chi ha una formazione d'antropologo visuale e chi ha una formazione d'artista io sfido comunque a se mette insieme certi tipi di lavori a è anche vero dall'altra parte che invece mhm poi una differenza tra spesso c'è ma più nella fruizione nelle modalità anche di produzione che di fruizione dove vengono circolazione ma anche cose banali la grafica con cui viene eh pubblicizzata una rassegna di video etnografici è completamente diversa da quella ed è inaccettabile magari per per un artista cioè e poi il pubblico il pubblico dell'antropologia ha certe letture alle spalle il pubblico dell'arte ha certe altre letture alle spalle quindi tanto che i programmi di studio rimangono divisi sarà difficile che questo matrimonio abbia successo in qualche modo però è anche vero che nel momento in cui sta comunque succedendo se ora io non sono dentro alla però mi pare che in tante università ci sono sempre di più ci sono i cultural studies no? o elementi antropologici nelle corsi no? nei corsi di estetica e tutto quindi di storia dell'arte cioè c'è un'ibridazione proprio anche dei programmi a quel punto effettivamente si creerebbe anche una figura ibrida non solo l'artista antropologo o l'antropologo artista ma anche il pubblico che è anfibio che è capace sia di dare un senso a partire dal background antropologico sia di dare un senso a partire dal background estetico diciamo quello però è una sfida che è una cosa che si costruirà secondo me ed è quella poi la differenza di fatto poi fondamentale poi ci sono io qui ho messo anche un altro paio di lavori questo era a Berlino lo vedi a Berlino nella stessa insomma a distanza ravvicinata rispetto a quello di Renzo Martens qui va bene entra meno in merito alla posizione dell'osservatore alla sua legittimità o meno però è un lavoro anche interessante in questo punto qui cioè lui viene minacciato addirittura da una persona che gli dice ti ammazzerò così parleranno di noi del nostro dramma rispetto al delta del Niger e a forme di neocolonialismo rispetto al monopolio del petrolio dell'estrazione del petrolio e quindi lui c'erano due video uno di fronte all'altro da una parte si vedevano i broker di borsa e dall'altra parte invece queste guerre che sono in qualche modo la eco di queste dinamiche globali però diciamo è questo lavoro relativo alla globalizzazione diciamo è questo lavoro a parte quel momento drammatico in cui lui viene aggredito diciamo ha più una struttura politica secondo me è abbastanza no esplicita non arriva però mi interessava ora perché partendo appunto da 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 buti con sempre cuore di tenebra sullo sfondo di questa riflessione poi appunto pensando da d'arrento martens nel congo c'è tutto il filone di artisti che stanno lavorando proprio sull'africa no? sembra quasi in antropologia c'è proprio ci sono gli africanisti no? di cui Jean-Luc Pamsel è un grande esponente che ho apprezzo molto, vi dà una piccola nozione bibliografica. Jean-Luc Pamsel, l'arte africana contemporanea, un lavoro veramente bello. Quindi questa generazione di artisti africanisti, mi sembra proprio un fatto, il termine africanista è proprio specifico dell'antropologia, e quindi mi sembra degno, insomma in questo contesto qui, è interessante anche perché aspetto, ora saltiamo Niki Li per ora, ecco c'è anche quest'altro artista, non so se, ora, i suoi lavori, molto simili agli altri, perché appunto, qui, in questo lavoro qui, tutto ciò che è solido si liquefa nell'aria, di Mark Boulos, c'è l'elemento forte feticista per esempio, no? Guerra e feticismo, no? E anche qui, nel lavoro di Richard Moss, immagine impossibile, anche qui c'è l'elemento feticista, guerra e animismo, cioè è come se ci fossero delle specie di, come se si stessero strutturando dei filoni di ricerca, no? Questo poi tra l'altro è un lavoro che pone un sacco di questioni spinosissime, è un lavoro tanto potentissimo, cioè, quando ora era la strozzina a Firenze, era un multi-channel, entri dentro ci sono tutti questi schermi disposti in modo di sbieco, tetti posizioni o cammini attraverso, ci sono tutte queste immagini virate, utilizzando dei dispositivi creati dall'esercito americano per la guerra, nei luoghi dove c'è molto verde, nelle foreste, per demimetizzare i soldati, quindi c'è questo interessantissimo elemento tecnico dentro, poi c'è una colonna sonora molto accattivante, molto bella, è proprio un lavoro che ha una potenza estetica incredibile, e cattura molto, però si presta anche a una critica in qualche modo, perché appunto leggendo, proprio partendo da un materiale antropologico, non da una riflessione interna all'arte, cioè, leggendo l'arte contemporanea africana di Jean-Luc Hamsey, lui parla proprio della, definisce una categoria, allora, allora, azzeriamo un attimo, parliamo di questo libro di Jean-Luc Hamsey, Jean-Luc Hamsey, l'africanista francese, riflette in questo libro, su come le industrie culturali francesi abbiano nei confronti dell'arte africana un atteggiamento, anche qui, di fatto colonialista, è un po' il fratello francese di Enjoy Poverty, in qualche modo, e cosa succede? Ora è veramente complesso, invito alla lettura, perché è bello. In generale, lui individua la categoria della friche, la friche sarebbe la magese, in francese, cioè sarebbe il campo abbandonato a se stesso, che per un anno si rigenera, torna a essere nutriente, no? E crea anche il neologismo afriche, cioè afrique, afriche, e quindi l'Africa diventa la magese, il campo di magese, rispetto a cui gli investitori culturali dell'arte francesi, diciamo, l'oggetto del loro vampirismo, loro vampirizzano, costruiscono l'artista africano secondo dei parametri diciamo, abbastanza legati a, in qualche modo, richiama all'orientalismo, e in qualche modo assorbono questa energia, però è più vampirismo, è una specie di vampirismo per cui questo mondo vitale viene in qualche modo utilizzato per, come una specie di riserva di sangue fresco, per riossigenare la scena artistica francese avvizzita con, appunto, è una specie di trasfusione di sangue, no? Chiaramente quest'operazione c'è anche una, l'altro viene vetrificato, viene, no? È una riedizione di un atteggiamento in fondo anche esotista, no? Anche se è molto contestualizzato rispetto alle politiche culturali, al mondo dell'arte francese e tutto, proprio entra in merito a come vengono costruiti certi artisti africani naif che vengono elevati a artisti che poi vengono esposti nei grandi luoghi di esposizione parigini, eccetera, eccetera. E quindi l'Africa viene in qualche modo vetrificata, estetizzata. La vetrificazione è un concetto che lui affronta in modo complesso e è difficile esattamente definire il rapporto tra frisch e vetrificazione. Però si può intuire un po'. Il momento in cui io impongo un certo tipo di immagine dagli artisti africani e poi chiaramente li stereotipizzano e quindi c'è l'estetizzazione dell'Africa dove ci sono alcuni elementi fondamentali appunto il macabro, la guerra, gli elementi, la decomposizione e ci sono tanti artisti africani che lavorano su questo massimalismo che dà questo shock e quindi forse non lo so questo lavoro l'ho pensato il rapporto non so se è come riflessione su o come frutto di questa affrission però chiaramente viene voglia di riflettere sul rapporto tra questo filone africanista di artisti nordamericani olandesi e questa tradizione di invece che conosciamo come francese da Ansel di sfruttamento del potenziale creativo africano per un mercato dell'arte occidentale proprio se vanno fatte apposta per confluire in uno studio in una ok vediamo che c'è dopo ah qui ci si va tra un po' sì faccio una domanda sia al Leone Contini antropologo che a quello artista c'è un approccio diverso secondo te e in che modo dal punto di vista etico nel rapportarsi a una comunità da antropologo e nel rapportarsi a una comunità da artista eticamente oltre che esteticamente in che modo in che modo gestisci entrambi i contesti e le relazioni ma diciamo queste riflessioni sono state cioè sono argomenti su cui ho sono arrovellato parecchio ovviamente e ma come l'impressione che a un certo punto il parametro i due parametri si devono fondere e quindi anche una un'incongruenza eccessiva dal punto di vista etico in qualche modo determina anche un compromissione dell'esito anche estetico in qualche modo però è un argomento abbastanza cioè cioè chiaramente se tu metti al centro del tuo lavoro la la appunto la tessitura di nuove relazioni o no la possibilità di di elementi generativi che vengono fuori da appunto dall'interazione di un artista con una comunità poi questa cosa in qualche modo deve esserci no per l'artista e la relazione stessa il lavoro a differenza dell'antropologo che invece per cui la relazione è funzionale alla all'elaborazione di dati alla raccolta e all'elaborazione dei dati non lo so se è una visione troppo superficiale dei due approcci sono sicura che ci sono invece tante sfumature intermedie che magari puoi spiegare meglio perché l'artista qui mi sembra per esempio no qui chiaramente di cui hai parlato stamattina sono abbastanza contraddittori perché soprattutto quello di Renzo Martens che poi è quello che conosco meglio perché comunque rasenta l'impegno apparentemente ma di fondo resta sempre comunque e riconferma la dimensione della rappresentazione per cui sì che poi è funzionale alla circolazione e all'esposizione dell'artista e del lavoro l'artista etnoveo nel mondo dell'arte però in qualche modo lui per rafforzare questa rappresentazione è andato attraverso il processo e soprattutto ha deciso di rendere questo processo visibile cioè dal punto di vista curatoriale per me la grande domanda è perché rendere il processo talmente visibile talmente esposto nel momento in cui il fallimento di questo tentativo sembra essere così poco rilevante per l'artista visto che comunque lui raggiunge il il fallimento è il suo prodotto estetico è il suo prodotto estetico sì però è il suo prodotto cioè quindi è fondamentale il fallimento la mostra il fallimento la messa in mostra il fallimento no? perché è diventato sì però ecco l'aspetto dell'impegno della pratica sociale in realtà è assolutamente inesistente sì anzi lo compromette le compromette le fondamenta in qualche modo in qualche modo mentre questo lavoro qui non c'è tanto l'aspetto c'è solamente l'appropriazione in qualche modo è più onesto dice io non mi occupo di del ruolo dell'artista rispetto a l'Africa rispetto all'altro crea un prodotto estremamente accattivante evocativo cioè potente come lavoro però anche questo solleva un sacco di inquietudini in qualche modo però in posizioni completamente diverse rispetto cioè le intenzioni sono completamente diverse però diciamo Renzo scusa per il discorso dell'etica prima forse il lavoro di Renzo Martens si arrovella sulla sua etica estetica su questo rapporto tra etica estetica tanto è l'oggetto del suo lavoro alla fine mentre qui non c'è questo cioè ti viene a te da dire ma stai estetizzando la guerra però non è che lui si ponga dentro il video non è che lui è l'uomo bianco nell'Africa nera Renzo Martens gioca con questi archetipo del colonialismo quasi nemmeno dell'antropologia del funzionario coloniale o come dell'antropologo insomma gioca con tutto quella un po' istintivamente penso non è che lui ha un interesse specifico antropologico però secondo me e di fatto arriva a porre queste domande etica estetica in modo proprio te le mette lì cioè l'immagine del ora vabbè io lo enfatizzo mettendolo in un'unica foto però lui non nasconde questo aspetto quando gli dice povrete poverty lui sta giocando sta facendo cozzare l'etica in quel caso lì è diventato un lavoro d'arte mi auguro che questo tipo di lavoro questo tipo di format artistico non diventi una moda cioè mi auguro che non si creino tanti piccoli Renzo Martens che vanno in giro per il mondo no questo dico che è utile come come punto di riflessione ma è quello che ha svelato cioè che questo lavoro ha comunque svelato dei meccanismi e che si cominci ad attivare una riflessione appunto su basi etiche oltre che estetiche intorno ai meccanismi stessi piuttosto che cercare di riprodurli visto il buon risultato il successo dell'artista come professionista come eh sì bisogna dissuadere tutti dal no però appunto è imprescindibile ma per fare qualcos'altro però come atteggiamento ti direi che abbiamo non moltissimo tempo ancora cioè in realtà abbiamo tutto il tempo del mondo però non non vorrei neanche sfinirti quindi se vuoi tirare le fila guarda faccio un'ultima una piccola riflessione finale poi dopo ci diamo appuntamento domani allora dieci minuti questo è un'artista coreana di origine coreana statunitense che lavora in un modo completamente appunto sono tutti africanisti uomini questa è una artista che ha un'etnicità connotata con un'etnicità particolare nordamericana nonna ed è lei fa un lavoro assolutamente che sembra proprio la ciliegina sulla torta perché ed è infatti al centro di quasi tutte le scritture degli antropologi che indagano il rapporto tra arte e antropologia per quanto non so se nel mondo dell'arte sia nota non credo sia conosciuta lei però è sicuramente conosciuta tra gli antropologi che studiano l'arte ed è criticata anche o anche apprezzata a seconda cosa fa lei lei gioca proprio con il concetto di osservazione partecipante di mimesi appunto il testo antropologico è assodato oggi il testo antropologico è un testo ibrido dove il sé dell'antropologo è un testo a quattro mani il testo etnografico dovrebbe essere un testo a quattro mani dove è costruito insieme all'informatore sono una convergenza di due sguardi che creano una cosa nuova e quindi c'è questa profonda compromissione dell'io di che osserva che è una cosa molto interessante cioè te che vai ti trasformi c'è una componente trasformativa che riguarda anche l'antropologo lei cosa fa artista lei si si infiltra diciamo in comunità che non sono la sua qui qui tipo gli skateboarders non so se esiste questo termine oppure qui invece più l'alta borghesia gliorchese e lei per un periodo si trasforma no? qui è vestita come loro qui diventa una specie di signora distinta col cagnolino col barboncino qui è in una zona so sembra un slam ispanico ops e poi ce n'è una molto bella che ora non ho messo dove è insieme a degli afroamericani questa ve la voglio trovare e e quindi lei ogni volta si perde completamente in queste altre identità e qui anche qui si si ha tutta una serie di no? da una parte l'incubo per per foster no? perché lei questa dinamica la 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 vive in modo quasi inconscio no? questo parlare per la comunità no? lo fa in modo il riflesso proprio no? eh quindi rappresenta un negativo perché mette in atto quei dispositivi di mimetici e di senza senza critica fa il contrario che fa di quello che fa Renzo Martins però poi lei non è nessuna di queste comunità quindi c'è comunque anche ogni volta che lei si sfila si tira fuori da questa cosa rispetto a questo momento di empatia durante il fieldwork poi c'è un momento di totale incongruenza no? quando lei torna se stessa l'artista e quindi va bene non la trovo comunque è molto bella quella foto perché c'è lei che proprio è in questa macchina con tutti questi uomini afroamericani anche lei una riflessione su di lei interessante che la sua etnicità coreana secondo me la rende da un lato sempre riconoscibile come corpo estraneo quindi anche come un elemento leggermente ironico distonico può essere interessante dall'altra parte la rende adatta a infiltrarsi un po' dappertutto perché è un'etnicità non particolarmente connotata se lei si scurisce un po' effettivamente ci sta quasi in un contesto quindi lei gioca anche con la sua somaticità insomma è un lavoro che ora non stiamo troppo a entrare dentro perché abbiamo già approfondito tante cose però è un lavoro che basta sapere insomma che è al centro della riflessione di questa riflessione interdisciplinare e poi finiamo con invece un artista questo mi piaceva questi artisti che in qualche modo usano l'alterità culturale come una tavolozza no? in fondo anche questo lavoro qui lo fa cioè il fucsia questo rosa non so se è fucsia no? e poi vabbè c'è l'Aib che lo fa tantissimo no? questo poi secondo me l'Aib ora è il caso estremo di un artista che si è appropriato in modo completamente istintuale di un'altra cultura e ha costruito la propria estetica in qualche modo vampirizzando no? la pratiche religiose induiste archetipi visivi e secondo me nel caso suo proprio raggiunge un livello davvero insostenibile è davvero il viaggiatore ottocentesco che si veste come i nativi che addirittura lui si è convertito all'induismo cioè ecco io vedo più in certo senso vedo più eticità in una consapevolezza critica no? che non in questa specie di annullamento perché non è un vero annullamento perché poi lui comunque questa roba la fa nelle gallerie allora c'era un lavoro che a me mi interessava ora finire con questo video è un video che io feci quando lui fece una mostra fece questa mostra alla fondazione Mertz a Torino dove addirittura fece qualcosa di veramente assurdo cioè chiamò 40 bramani dall'India gli fece venire a Milano e gli fece gli fece fare dei riti a Torino scusa gli fece fare tutta la ritualità induista intensivamente per non so 40 giorni e ci sono due due aspetti interessanti di questo lavoro uno è che questi bramani o bramini erano distopi erano il loro comportamento era incongruente rispetto a questa purezza esotista a cui secondo me l'artista aspirava in questo caso perché gli ha fatto fare i riti sarebbe come prendere 40 preti portarli in India in un posto dove non ci sono cristiani metterli dentro le va messi dentro una specie di quella specie di piscina di cemento che c'è alla fondazione Mertz e farli metterli in un cubo e fargli fare una messa tutti i giorni per un pubblico dell'arte X no? trobriandese ecco che è veramente qualcosa di cioè uno deve pensarla così secondo me però in realtà questi bramini ci sono due elementi interessanti uno che si vede nel video che questi bramini sono non ci stanno dentro a questa esoticizzazione e decontestualizzazione rispetto al tempo in cui viviamo e a un certo punto iniziano a farsi le riprese a vicenda con delle telecamere che accadono i Ray-Ban eccetera eccetera quindi in questo caso il materiale umano si è in parte ribellato e quindi c'è una agency di senso opposto che viene dall'altro che non si lascia confinare in quello sguardo orientalista penso si possa fare tranquillamente in questo caso di orientalismo e poi un altro aspetto forse ancora più interessante che però non c'è in questo video che in realtà questo lavoro qui nonostante ha avuto un senso perché tutte le comunità di immigrati che stanno a Milano da zone induiste si sono ritrovati in questa specie di fortuna incredibile di poter partecipare a una ritualità effettivamente perfetta dal punto di vista rituale in un contesto in cui è completamente preclusa quindi questo lavoro qui di live per quanto parte da presupposti per me non condivisibili di prendere 40 preti e mandarli però se su quelle trovie ci fosse stato un cristiano che avesse cioè in qualche modo qui la comunità di immigrati che non è quella del mondo dell'arte di fatto si era saputo non so come che c'era la possibilità di andare lì e fare attendere ai riti e l'hanno fatto quindi non so quanto questo probabilmente gli ha fatto anche piacere a lui perché comunque lui è induista loro sono induisti sarà stato immagino contento di questa cosa però non era mi dà l'idea l'elemento anche perché poi non è che questi andavano a vedere lo zigurat di Ceradapi che era nello spazio espositivo io gli chiedevo ma voi poi andate no quello non ce ne frega non ci importa però ma cosa pensi di questo artista che ha usato le vostre cose no no benissimo anzi grazie ci hai dato l'opportunità di vivere la nostra quindi no questo è semplicemente una riflessione su come poi l'altro sia sempre un soggetto a sua volta non è mai un oggetto e quindi è sempre capace di ribaltare la frittata no e quindi bene anche per live alla fine immagino che questo lavoro di fatto mi ha stimolato un sacco di riflessioni per esempio a me che non sono un suo magari anche per la prossima questa performance braminica nel centro di Torino dentro di una specie di cisterri con piscina di cemento, insomma un po' la fossa delle oceani, c'è una roba all'inte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.